I cittadini di San Giuseppe Alpozzo convocano l'amministrazione comunale in frazione per un consiglio comunale a rovescio. Si discuterà di quelle che sono le problematiche della frazione presentate più volte all'amministrazione e a quanto pare mai risolta. Sì, senza altro. Questa volta abbiamo voluto fare un'assemblea pubblica proprio denominata Consiglio Comunale a rovescio, dove sarà un esponente della frazione a poter risporre ai problemi e all'amministrazione a poter rispondere. Unitamente all'amministrazione sono stati invitati tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione. Insomma, un vero e proprio consiglio comunale. Si svolgerà alle 18.30 del lunedì nell'atrio antistante il centro aggregazione anziani per parlare di queste problematiche della frazione, sia per quanto riguarda la strada alle 18, sia per quanto riguarda un'ipotesi di una strada che dovrebbe essere costruita, diciamo disegnata all'interno dell'housing sociale, quanto ci sarà. Ci terrei a precisare che chiaramente questa iniziativa può essere vista, almeno da un punto di vista personale, ringrazio la redazione che mi dà la possibilità di far sì che di pensare che io sia contro l'amministrazione. È qualcosa che non corrisponde a verità, non lo potrebbe essere, perché credo nel mio piccolo, io il metro in tasca me lo porto sempre, che abbia contribuito anche a far sì che questa amministrazione nascesse quattro anni fa. Chiaramente con la stessa onestà intellettuale devo dire che io sono al fianco delle problematiche dei cittadini di San Giuseppe Alpuzza. Quindi l'appuntamento è a voi, a tutte le testate giornalistiche, stanno arrivando gli inviti per lunedì 16 settembre, ore 18.30, dove andremo a discutere dei problemi della frazione. E spero che l'amministrazione, tutti, possano intervenire. Sarà un vero e proprio consiglio, ci sarà chi lo guiderà, un consiglio comunale a rovescio.